Allora, una partita, insomma era partito bene sul 2-0, un palo comunque del Vallardo già nel primo tempo, poi nel secondo tempo cosa è successo? Si è spenta un po' la luce? Beh, innanzitutto ha dato merito anche agli avversari di aver fatto un ottimo secondo tempo, sapevamo che questo è un campo difficile, ci hanno perso diverse squadre, tra cui la Rivarolese, il Vado, quindi squadre importanti. Abbiamo approcciato nella maniera giusta un buonissimo primo tempo, e forse nel secondo tempo potevamo fare qualcosa in più, però come ripeto bisogna dare anche merito agli avversari di aver fatto un secondo tempo importante. Andrea Parodi, un tuo ex compagno, oggi a segno e anche salvato il risultato sul 2-0. Sicuramente siamo contentissimi, ci darà sicuramente una mano da qui alla fine della stagione, era già stato alla Genova Calcio, sa il gruppo e l'ambiente che viene a trovare, ci darà sicuramente una mano e oggi già è partito bene, sicuramente un gran colpo per noi. Ok.